Gloria Signora, buongiorno fratelli, Dio vi benedica, eccoci qui per un'altra bellissima giornata. Cosa abbiamo oggi di bello Angela? Un abbraccio grande fratelli, abbiamo una storia interessante che una cara sorella ci ha inviato. Come si chiama? Il pacchetto di biscotti. Andiamo coi biscotti. Una ragazza stava aspettando il suo volo in una sala d'attesa di un grande aeroporto. Siccome avrebbe dovuto aspettare per molto tempo, decise di comprare un libro per ammazzare il tempo. Comprò anche un pacchetto di biscotti. Si sedette nella sala VIP per stare più tranquilla. Accanto a lei c'era la sedia con i biscotti e dall'altro lato un signore che stava leggendo il giornale. Quando lei incominciò a prendere il primo biscotto, anche l'uomo ne prese uno. E lei si sentì indignata, ma non disse nulla e continuò a leggere il suo libro. Tra sé, pensò, ma tu guarda, se solo avessi un po' di coraggio le avrei dato una bella sgridata. Così ogni volta che lei prendeva un biscotto, l'uomo accanto a lei, senza fare un minimo cenno, ne prendeva uno anche lui. Continuarono finché non rimase che un solo biscotto. E la donna pensò, ah, adesso voglio proprio vedere cosa mi dice quando saranno finiti tutti. L'uomo prese l'ultimo biscotto e lo divise a metà. Ah, questo è troppo! Pensò la ragazza e cominciò a sbuffare indignata. Si prese le sue cose, il libro e la sua borsa, e si incamminò verso l'uscita della sala d'attesa. Quando si sentì un po' meglio e la rabbia era passata, si sedette in una sedia lungo il corridoio per non attirare troppo l'attenzione ed evitare altri dispiaceri. Chiuse il libro e aprì la borsa per rimetterlo dentro, quando, nell'aprire la borsa, vide che il suo pacchetto di biscotti era ancora tutto intero nella borsa. Gloria a Dio! Sentì tanta vergogna e capì solo allora che il pacchetto di biscotti uguale al suo era di quell'uomo seduto accanto a lei, che però aveva condiviso i suoi biscotti con lei senza sentirsi nervoso o superiore, al contrario di lei, che aveva sbuffato e addirittura si sentiva ferita nell'orgoglio. La morale è quante volte nella nostra vita abbiamo indebitamente mangiato i biscotti di qualcun altro senza saperlo? Prima di arrivare a una conclusione affrettata e prima di pensare male di una persona, guardiamo attentamente a come stanno veramente le cose. Molto spesso non saranno come sembrano. Qualcuno ha detto cinque cose nella vita che non si recuperano. Una pietra dopo averla lanciata, una parola dopo averla detta, un'opportunità persa, il tempo dopo che è passato, l'amore che non abbiamo dato. Amen, è vero. Gloria a Dio. Amen. Vero? Sì. Quelle cose non puoi recuperarle. Gloria al Signore. Grande saggezza. Andiamo Romani 2 e Romani 14, due scritture che vorrei leggere. Sì. Devi andare verso 1, 2 e 1. Romani 2, verso 1. Perciò, oh uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi, fai le stesse cose. Romani 2, 1. Wow. Wow, questo è successo tante volte, sì. Quindi a volte quando giudichiamo e condanniamo e critichiamo, è come se fossimo davanti a uno specchio a criticare e condannare noi stessi. Poi mi dice chiaramente. Sì. È incredibile. Infatti Gesù ha detto in Matteo 7, Matteo 7 Gesù ha detto, Non giudicate verso Buon Angelo. Matteo 7, 1. Non giudicate affinché non siate giudicati. Capito? Perché con la misura? Perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Wow. Wow. Romani 7, 1 e 2. Sì, questo era Matteo 7, 1. Ah sì, Matteo 7. Matteo 7, 1 e 2. Gloria a Dio. Quindi dice qua al Signore, con il giudizio che giudicate sarete giudicati, e con la misura che misurate, sai vi sarà misurato a voi. Cioè attenzione che quando condanniamo gli altri, stiamo condannando noi stessi, quando critichiamo gli altri. Perché siamo uguali. Sì, davanti al Signore tutte le condanne che diamo agli altri cadranno sulla nostra testa. Che invece dalla condanna Dio voleva dare il perdone. Se non il perdone è che magari la persona ancora non si è repentita. Almeno l'amore, almeno un po' di comprensione, perché se mostriamo amore, comprensione, amicizia, verso uno che ancora non si è pentito. Che dico? Un assassino, un ladrone, un adulto, non si è pentito. Però se mostriamo con amore, ho detto Gesù con l'adulta da Giovanni Otto, non è che aspettate di vedere se si era pentita. Si è stata battezzata nell'acqua di pentimento? No. Gli ha detto non ti hanno condannato? No maestro, neanche io. Ma si era pentita questa donna? Nessuno lo sa. Nessuno lo sa. Oggi in molte religioni, come fai a perdonare una persona che non si è pentita? Non ha fatto battesimo nell'acqua. E Gesù, ma è mica gli chiede battesimo nell'acqua. Gli chiede non ti hanno perdonato? E questo pranto è di Giovanni Otto. No maestro, neanche io ti condanno. Questa qui ha peccato, adultera, nessun ombre di pentimento, solo paura di essere lapidata. Non sappiamo che avveniva nel suo cuore. E Gesù la perdona. Gloria, gloria al Signore. Guarda, Romani 14, 10 vorrei andare. Dove dice, ma tu, perché giudichi tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi tuo fratello? Tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Wow. Quindi non dice, perché lo disprezzi, che lui ha ragione, tu hai torto, non vedi che è torto, non vedi che lui ha ragione, non dice questo. Perché lo giudichi? Perché lo disprezzi? Perché lo critichi? Perché lo condanni? Romani, cos'è, 2,15 dice, è la giustizia di Dio che ci porta a pentimento. Romani, capitolo 2, verso 4, credo. Cos'è, la bontà di Dio, dice. Dice proprio, la bontà di Dio ci porta a pentimento. Vogliamo andare lì? Vediamo se è giusto. Così, fammelo leggere giusto. Ce l'hai? Sì. Legge Romani 2,4. Oppure disprezzi la ricchezza della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Romani 2,4. Gloria al Signore. Quindi è la bontà di Dio che porta al ravvedimento. Quindi quando Dio va dal peccatore con bontà, nessuno è condannata, no maestro, neanche io. E noi andiamo, a volte andiamo invece, il contrario di Dio. Andiamo un po' come il diavolo, un pochino, vero? Ci caschiamo tutti nella forza. Uno sbaglia, ah, ecco qui, è sbagliato, taglia la mano, taglia il bar, occhio per occhio, dente per niente, hai torto, io ho ragione, ma Dio non è così. Il Signore va sulla Calvario, va sulla croce, spalge il sangue, per chi? Per i giusti che si sono pentiti? No, non si era pentito quasi nessuno. Va bene? Sì. Glorie al Signore. Allora, senti, Matteo 7, lo leggiamo per bene? Sì. Dall'1 al 4 devi andare. Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la paliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello, lascia che io ti tolga dall'occhio la paliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Matteo 7, da 1 a 4. Grazie Signore. Quindi fratelli, qua Gesù è chiaro, chiaro, chiarissimo, limpido. Sta dicendo che quando noi giudichiamo, saremo giudicati alla stessa misura, che non ci sarà che ragione che ha tolto. Hai perdonato? Sì, quelli che ci sono pentiti. No, perdonato e basta. La luce non brilla solo su chi si pente, brilla anche su chi non si pente. La salvezza di Gesù brilla sui peccatori, sui posseduti del diavolo, sui serial killer, fino all'ultimo giorno. Fino al giorno che Dio li fa morire, il suo perdono brilla. All'ultimo giorno, dopo la fine dei serial killer, quello si può ancora perdonare. Quindi Dio ci aiuti. Quindi anche a Primo Corinthians 4,5 volevo dire, Paolo dice, non giudicate nulla prima del tempo, finché sia giunto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri del cuore, allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Primo Corinthians. Gloria al Signore. Allora, quindi la Bibbia ripete in continuazione, il giudice è Dio e noi è meglio che siamo zitti. Amen. E noi siamo zitti perché noi cristiani, noi dalle chiese, siamo famosi per condannare, giudicare, criticare, a cominciare con Gesù. chi è che l'ha condannato Gesù? La sua religione, il suo popolo, i suoi giudei, i cristiani di allora, quelli che si chiamavano giudei, oggi cristiani, ma non è che è cambiato molto. Sì, viene uscito il Spirito Santo, ma troppi casi, in mezzo a noi, non siamo molti usati dallo Spirito Santo, nonostante, se lo Spirito Santo sono state fatte crociate, la guerra di cent'anni, i cattolici e i protestanti, fratelli, cerchiamo di cambiare, camminare in amore, cominciando con la moglie, il marito, il fratello, a casa nostra. Amen. Bene, non solo col protestante cattolico, il fratello a casa nostra che sbaglia, il fratello, la moglie, il marito, che sbaglia, andiamo con lo Spirito di perdono, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Io benedico, fratelli, che il Signore riceviti tutti, il Signore aiutaci tutti a avere una metamorfosi, un cambio. Signore aiutaci a nascere di nuovo ogni giorno, in un certo senso, uscire, avere una liberazione giornaliera dalla nostra cattivere, il nostro egoismo, la nostra presunzione. E' lì che il diavolo è caduto, nella presunzione. Io benedico, fratelli, camminiamo, Spirito nuovo, Spirito Santo, in amore nuovo, in nome di Gesù Cristo. Grazie, Gesù. Amen. Amen. Grazie. Grazie.